Ti sfido a cantare come loro e non andare fuori di testa. Il Crono Shock 13. Non ve l'hanno detto, vero? La vostra azienda ha chiuso. Hai chiuso l'azienda? È tutto computerizzato adesso. La gente nutre profonda sfiducia verso le macchine. L'hai visto Terminator? Già. Il 2? Il 3? Il 4? Siete stati dei venditori incredibili, ma ammettetelo, siete dei dinosauri. Nick, ci sono. Google. C'hai trovato un lavoro a Google? Beh, non un lavoro a lavoro. È un colloquio per uno stage che poi potrebbe portare a un lavoro. Questa potrebbe essere la nostra ultima occasione. Dai, avvicinati. Non ci vedranno. Vedi quanto è piccola la webcam. No, dai, guaccia guaccia. Vi vediamo, ragazzi. Ok, fantastico. Salve, io mi chiamo Billy. E vi sentiamo anche bene. Oh, grande. Benvenuti a Google. Il 5% di voi troverà un lavoro a tempo pieno. Il restante 95% si attacca. È come in Hunger Games. Siamo nell'arena contro una marea di piccoli geni per una manciata di posti. Io sono Lyle, uno dei team manager. Sbattimelo. No, noi siamo vecchio stile. Noi quelle cose perverse col pugno non le facciamo. Fratello, mica mi fa male. Sono abituato. Qui c'è qualcosa che non va. Voi siete staggisti? Sì. Ma giura. Indovinato. Siete così vecchi. Vi credevo persone importanti. Perché come si dice, chi non risica non rosica. Prima sfida, creare un'applicazione. È l'ora delle idee. La gente scatta foto in continuazione. Perciò uno può prendere quelle foto e metterle tutte in line. Online? E condividerle con gli amici. Quello è Instagram. Il mio è più un social sharing in line. Piccolo quesito. Quando dici in line, intendi online? Certo. Ci sono delle regole. Paletta rossa indica no, paletta verde sì. Bere una birra con il vostro capo. Se vuole scolarsene una ghiacciata con me, basta dirlo. Io non me ne scolerò una ghiacciata con te. Una canna? Il vostro compito è trovare il bug. Perché non andate a trovare subito il programmatore? Si chiama Charles Xavier. È un professore a Stanford. È su una sedia a rotelle. Stanford, sedia a rotelle, ce l'ho. Sì. Charles Xavier? Molto spiritoso. Professor Xavier, sappiamo che è lei. Mi avete scoperto. Anche Ciclop e Rogue, siamo tutti qui. Ora vorrei condividere un po' della mia saggezza con voi. Oh, mio Dio. Professor Xavier, lei è un grandissimo... Deci... Di un po' della mia saggezza. Di un po' della mia saggezza. Di un po' della mia saggezza.